L'Università Federico II di Napoli apre le porte alla città. Lo storico Ateneo di Corso Umberto amplia la sua offerta formativa con un progetto che intende parlare al mondo della scuola, quello accademico e alla città. Lo fa con F2 Cultura, un nuovo logo, un sito web rinnovato e Federico II nella città per la città. Obiettivi riassunti dal prorettore dell'Università Arturo De Vivo. Ascoltiamo. Un percorso che porta l'Università in un contesto che non è quello accademico ma è quello cittadino. Con due obiettivi. La comunità cittadina, il mondo della scuola. Per cui gli eventi non sono soltanto all'interno delle strutture della Federico II ma all'interno di spazi che sono innanzitutto quelli della scuola. Per affermare anche questa unicità di intenti per una formazione che coerentemente vede insieme e collaborare concretamente il mondo della scuola col mondo dell'Università. Un occhio alla formazione senza però dimenticare la rete industriale e l'importante lavoro di ricerca e innovazione delle Università. Ascoltiamo il Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi. Noi stiamo lavorando sia cercando di stimolare quello che è il sistema industriale, sostenendo con i nostri ricercatori e le nostre ricerche quelle che sono le aziende più innovative, ma poi vogliamo anche essere presenti sul territorio con iniziative culturali e di affiancamento alle amministrazioni locali perché crediamo molto nella terza missione dell'Università che è proprio un'Università legata al territorio.